Pubblichiamo un sito web. Ciao, io sono Michele e in questo video ti spiego come pubblicare il tuo sito web in maniera gratuita e in pochi clic. Se hai seguito qualcuno dei miei recenti video avrai imparato un po' le basi dell'HTML, CSS e JavaScript e magari hai fatto anche qualche esperimento. Però l'esperimento che tu hai fatto, il tuo piccolo sito web, il tuo piccolo esercizio, resta solo locale nel tuo computer, lo puoi vedere solo tu. Se volessi farlo provare anche a qualcun altro, beh, questo video è qui apposta. Ti mostro come pubblicarlo su internet in maniera assolutamente gratuita. Andiamo nel computer e ti faccio vedere come. Allora, eccoci qua. Qui ho il sito che viene fuori come esercizio dal video che metto linkato in descrizione. È uno dei miei video recenti dove facciamo le basi di HTML, CSS e JavaScript. E quindi ti viene fuori questo sito dove si vede come creare un tema chiaro, un tema scuro e cambiarlo con il clic del pulsante. Diciamo che, ok, ci piace questo sito web e lo vogliamo pubblicare, questa pagina web e la vogliamo pubblicare su internet per farla vedere a chiunque, sporla al mondo sostanzialmente. Allora, cerco Netlify. Eccolo qui, Netlify. E vado dentro. Faccio SignUp, mi scrivo e posso utilizzare le mie credenziali GitHub, quindi se per caso hai già partecipato a qualche progetto open source o sei iscritto a GitHub, puoi riutilizzare le credenziali. Io ho fatto così perché ho già un account GitHub oppure ti puoi iscrivere con la mail. È assolutamente gratuito, non c'è nulla da pagare. Allora, io faccio velocemente un login, uso il mio GitHub e questo è il mio account GitHub, solo che io non ricordo mai le password e le vado a recuperare dal password manager. Eccola qui, faccio SignIn, mi arriva l'autenticazione. Va bene, la metto. Benissimo. Ok, quindi sono entrato nel mio Netlify con le credenziali di GitHub. Netlify è una piattaforma molto completa, mette a disposizione tanti servizi. A noi ci interessa quello di pubblicare un sito. Ci tengo a dirlo, non ho alcuna affiliate, non mi pagano per fare questa pubblicità. È solo uno strumento molto comodo che ho trovato, è adatto anche ai principianti perché adesso vediamo, con un drag and drop pubblichiamo il nostro sito. Allora, come faccio? Allora, apro la cartella che contiene il mio sito. Eccola qui, ed è questa, Tutorial Web, e lo trascino qui nella sezione Sites, Deploy Manually, che in inglese significa appunto installalo manualmente, fa drag and drop della cartella. Va bene, allora facciamo così, drag and drop. Sono pochi file, quindi sarà una cosa abbastanza veloce. Ok, e ci dice Deploying Your Site, quindi stanno preparando il sito. Questa cosa ho già visto, ho fatto delle prove, non si aggiorna da sola. Facciamo un paio di F5 e infatti ci dice che il nostro sito è in produzione, cioè significa che è disponibile e visibile. A questo sito gli viene dato un nome a caso, ok? Gli viene dato un sottodominio, cioè questa parte qui, all'interno del dominio Netlify.app. D'altronde siamo nel piano gratuito e ci dobbiamo accontentare di questa cosa qui. Se volessimo avere il nostro dominio, eccetera, tipo col mio nome e cognome, tipo michaelferracin.it, qui sarebbe tutto un altro mondo. Posso fare anche dei tutorial a riguardo. E niente, semplicemente clicco, ok, e il sito è navigabile, quindi basta andare a questo indirizzo, HTTPS, Visionary Trifle, eccetera, e è disponibile da chiunque. Ok, lo sto facendo anche vedere qui, lo sto navigando dal mio telefonino, quindi è pubblicamente esposto su internet. A questo punto ci viene da chiederci, ma se facessimo una modifica al sito, come lo aggiorno? Beh, è molto facile, per esempio, allora apro i sorgenti e vado a dire, invece che avere intestazione, scrivo intestazione versione 2 e qua paragrafo molto più bello di prima. Salvo, mi assicuro di aver salvato tutto e poi allora vado qui, ok, e come faccio ad aggiornare? Beh, semplice. Vado nella sezione Deploys, quindi che sono le installazioni, to deploy in inglese vuol dire rilasciare le truppe, viene da un termine un po' militare, e quindi quando le installazioni, il rilascio del nostro software, e di nuovo mi ritrovo una schermata molto simile alla prima installazione che ho fatto, dove mi trovo il drag and drop qui, quindi mi apro la mia file explorer, trascino la cartella, e noi vediamo che cosa? Che abbiamo la prima versione che abbiamo messo in produzione all'1.32 e adesso è all'1.36, ok, e lo vediamo. Uploading, faccio F5, di nuovo questa pagina non si aggiorna da sola e ora posso di nuovo aprire la pagina del sito, se sono sicuro, ok, abbiamo intestazione versione 2, paragrafo molto più bello di prima, eccetera, eccetera, quindi abbiamo aggiornato il sito. Posso nel caso di difetti o mi accorgo che ci sono degli errori, tornare indietro, ok, sulla versione vecchia e vado anche a dire publish deploy e quindi torno indietro, faccio publish, a questo punto torno nella pagina, F5 un paio di volte affinché non si aggiorna, eccolo qui, e abbiamo il sito versione vecchia, quindi ho anche la possibilità di tornare alla versione che preferisco. Benissimo, abbiamo imparato come pubblicare le nostre pagine web e su internet con veramente poco sforzo in maniera assolutamente gratuita. Il piano gratuito della piattaforma Netlify ha ovviamente delle limitazioni, ma per scopi didattici praticamente non le incontreremo mai. Ti invito quindi a rifare tutto quello che abbiamo visto in autonomia, puoi seguirmi col video, metti in pausa, torna indietro e usalo come guida e se ti è piaciuto, se ti è stato utile, metti un mi piace, iscriviti al canale così sarai aggiornato su tutte le ultime uscite. Ciao!